Eccoci insieme in ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport, continuiamo a parlare del Bari, ma come vi ho detto daremo spazio anche al rugby perché l'abbiamo preso al volo e a Bari, perché lui è direttore tecnico delle Tigri di Bari, gloria del rugby italiano, Mauro Bergamasco, anche perché sono i giorni del rugby, Mauro, no? Stiamo vedendo cose nuove. Siamo in fine sei nazioni, quindi con un'Italia che ha disputato un buon torneo, diciamo, vincendo in Scozia, andando molto vicini con l'Inghilterra, con un risultato, un pareggio in Francia. Pareggio col palo alla fine. Col palo, insomma, fa parte del giochi, pareggi sono fin dall'inizio. E poi questa vittoria in Galles che comunque dà una concretezza a quello che ho fatto fino ad oggi e dà una base ovviamente per il futuro di lavoro. Cosa è cambiato secondo te? Molti danno merito all'allenatore, ma può bastare l'allenatore a cambiare tutto lo scenario o ci sono innesti diversi? Parto al contrario. Il cambio di allenatore, quindi un nuovo allenatore, se porta una filosofia interessante e riesce a creare subito una relazione con i giocatori, sicuramente porta qualcosa di nuovo, una ventata ovviamente d'aria nuova fin dall'inizio. Poi la parte più difficile è mantenere questo tipo di dinamica anche nel futuro. E' chiaro che il lavoro di questa squadra che ormai da 4-6 anni si ritrova e è in evoluzione comincia a pagare. Comincia a pagare sia per il lavoro fatto in maglia azzurra quanto anche per i giocatori che poi giocano all'estero, che quindi giocano a un livello superiore. Ma anche per le progettazioni delle squadre, delle due franchigie italiane che comunque stanno avendo buoni risultati, in particolare la Benetton Rugby, ovviamente, che è la maggiore alimentatrice da sempre, ma comunque quando c'è le franchigie di più, che alimenta ovviamente i convocati in maglia azzurra. E' chiaro che questo poi passa per un lavoro, una consapevolezza degli atleti che mano a mano sono sempre più consapevoli di quello che l'alto livello chiede loro quotidianamente per poter competere in questi stadi, in questi palcoscenici e ovviamente questa è una delle ragioni. Dopodiché è chiaro che poi dobbiamo essere capaci di accelerare nelle evoluzioni tanto quanto gli altri e in queste 6 nazioni è stata un'ottima accelerazione, tanto che poi in ranking siamo saliti molto, siamo all'ottavo posto e non siamo riusciti per poco. E' un punto di partenza questo, insomma. Questo sicuramente è un punto di partenza e non un punto di arrivo di sicuro, però insomma mi sembra che le baci siano interessanti. Interessanti, hai visto Uomo del Nord, Maniche Corte, Rugby, tuoi, il vero, il vero lo conosci, insomma. No, dicevo, ritengo, lo dicevo prima di entrare in collegamento, il rugby è uno sport nobile e a me mi appassiona quando è uno sport duro, perché ovviamente c'è grande agonismo, forza, però a fine partita si abbracciano tutti, c'è un rispetto. Cosa nel calcio a volte non c'è. E' raro. Nel senso che ci sono questi momenti in cui succede di tutto nel dopo partita, invece il rugby è di una, come posso dire, proprio finisce tutto. Ma perché, Mauro, ce lo spieghi. C'è una specie di mentalità, non so. Sicuramente passa per un modus operandi, una tradizione nel tipo di disputa negli 80 minuti, ma poi finisce tutto con il fisco dell'arbitro, di conseguenza poi ci si riserva un momento in cui si possono anche scambiare idee che non portano per forza il marchio della palla ovale. Però qualche anno fa, nel 2011, scriviamo un altro libro, insieme a mio fratello, dove si parlava anche di questo momento. C'è tanto agonismo, tanta collisione all'interno del campo che forse ne serve un po' meno fuori. E quindi questo è uno dei motivi. Sicuramente poi c'è la tradizione, la storia, che nel rugby nasce in questa maniera e quindi continua a proteggarsi nel tempo perché credo che sia un momento nel quale il rugby prende una dimensione diversa da quella degli 80 minuti e quello che ha avuto durante la settimana nella preparazione della partita. Ed è il momento nel quale, anche a maglie differenti, negli 80 minuti, ti permetti di parlare sia della partita ma anche di quello che riguarda tutto il contesto esterno. Il messaggio è che c'erano così tanti scontri durante la partita che, insomma, finisce la partita e basta. Mauro Bergamaschi invece è una birra che vogliamo anche con il rugby. Mi pare che quest'anno, dai, non vogliamo sbilanciarci però Tigri Bari... Non è questione di sbilanciarsi, il progetto continua ma è la cosa positiva... L'ultimo risultato di misura, questo è l'ultimo risultato. Esatto, questo è l'ultimo risultato di ieri, esatto. Quindi è una squadra che sta rispondendo molto bene alla proposta evolutiva di queste ultime due stagioni. Lo staff con Dario Stellato e Vitangelo Spizzico sono perfettamente, stanno gestendo perfettamente il gruppo e anche tutto il settore tecnico legato poi anche a quello relazionale. Ricordiamo insomma che i tre cardini fondamentali del rugby Bari sono di essere preparati fisicamente, preparati tecnicamente, quindi congruenti, coerenti con quello che viene proposto. E soprattutto il comportamento che è fondamentale dentro e fuori dal campo. Quindi queste sono tre cose che in tutto il club, quindi la Signores così come i ragazzi, è richiesto come attenzione ma soprattutto c'è una consapevolezza nuova anche da parte del gruppo Signores che vede l'evoluzione, vede la propria evoluzione come individui e come squadra e quindi anche l'approccio verso la partita è diversa. Avete anche potenziato il settore giovanile, c'è un nuovo inserimento dall'Argentina? Esatto, sì, che poi tra l'altro è mamma di Emilio Dominguez che fa parte della nostra rosa, eccola qui. Settore di donne e di unione, giusto? Settore di unione e poi c'è un progetto a medio e lungo termine che vuole aggiungere a quelle che esistono già nel territorio pugliese anche una compagine femminile. Però è un progetto... Initile, un po' alla volta. Sì, esatto. La cosa fondamentale è che, insomma, quest'anno, senza esagerare, ci sono le carte regole per fare le cose, è chiaro che poi il campo dà dei risultati e quindi, come io dico sempre a loro, ma da loro ho la risposta giusta che mi aspetto, è che per arrivare fino alla fine e poter volere una promozione bisogna vincere tutte fino alla fine.